Magari sono un po' lontani e si preoccupano, non vedono i loro figli, state tranquilli, perché qui ci sono tutti i bambini di Riccione, sono tutti qua, ok? Quindi se non lo trovate sicuramente qua da qualche parte con altri ragazzi, sono tutti seduti tranquillo, dopo uno furba, vabbè, i bambini ormai, poi ci sai come sono. Allora cantiamo, e cos'è la cantata? Ah, old stuff, na 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 na, viene a cantare. Qui si venga la città? Vabbè, ma come si è un po' lontani. Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ehm... Quanto, poi? Ehm... 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!